Io non riesco veramente a capire una cosa molto semplice. Soltanto poche settimane fa abbiamo ricordato gli orrori del nazismo, abbiamo ricordato gli orrori della pulizia etnica fatta dai nazisti nei confronti degli ebrei e non solo. Sono passati pochi giorni, siamo al 10 febbraio, e invece tutta quella celebrazione della giornata, tutto quel ricordo, tutto quell'orrore, non viene tirato fuori, se non da Mattarella e se non questa sera noi a Quarta Repubblica e sul sito nicolaporro.it, beh tutto quell'orrore non viene ricordato quando a morire sono stati degli italiani per mano dei comunisti, i jugoslavi e alcuni partigiani folli e criminali. Non riesco a capire perché oggi non si debba ricordare quella procedura orrenda con la quale due italiani venivano messi all'inizio davanti a questi orribili burroni, uno di loro due veniva ucciso con un colpo in testa e l'altro, legato a fil di ferro con il morto, veniva gettato nella foiba e lì crepava tra dolori con il suo vicino di banco, il suo vicino di parrocchia, il suo vicino di questura o di prefettura che stava agonizzando. Perché non lo ricordiamo? Perché abbiamo questo pudore nei confronti di quella che è stato un orrore che noi stessi abbiamo commesso. Beh insomma io un motivo me lo sono cercato e l'ho trovato e sapete qual è? Ed è molto semplice, il nazismo l'abbiamo sconfitto, il virus del nazismo tranne che i rarissimi piccoli casi è ancora forse diffuso ma in maniera diciamo inesistente, invece il virus del comunismo è qui e lotta insieme a noi purtroppo e quella cattiva coscienza dei comunisti che volevano negare agli esuli italiani ogni dignità di suolo e che hanno negato per anni le foibe, quella cattiva coscienza di chi in questo paese se ne è approfittato per la resistenza, per regolare conti che non avevano nulla a che vedere con la guerra, beh quella cattiva coscienza è ancora qua, è ancora presente, è quella cattiva coscienza per cui oggi non si celebra la giornata del 10 febbraio introdotta da Ciampi e Berlusconi semplicemente perché ancora si negano le foibe, ancora si nega che Tito è stato un massacratore di italiani, ancora non si vuole vedere che ha ricevuto onorificenze dalla Repubblica Italiana, ancora non si vuole credere che partigiani comunisti abbiano regolato conti senza nulla avere a che fare con il fascismo. Ecco, in questo giorno tu capisci perfettamente perché quell'egemonia gramsciana, marxista, di sinistra e comunista non è ancora morta, sono ancora lì, per i quali si possono e si debbono e siamo d'accordo con loro ricordare i morti dei campi di concentramento ma i morti italiani nelle foibe e gli esuli italiani di Istria e Dalmazia non esistono, sono scomparsi sono l'ultima notizia quando va bene di un telegiornale della mattina, questa sera a Quarta Repubblica non ce ne dimenticheremo, a più tardi.